E non ho mai cercato di saperlo. Sono sempre vissuto qui, perché qui mi sento proprio felice. Sono libero e non mi manca nulla. Vuoi vivere anche tu con me? Qui, in questa grotta, fra quelle bestie. Io ho conosciuto molti uomini che sono passati di qui. E quando ho imparato a parlare la loro lingua, ho capito che a trattarli sono molto più difficili delle bestie. Preferisci tornare con loro, vero? Oh no, questo no. Mi venderebbero come schiava e io ne morirei. E' Argo, il mio cane. Vallo a prendere, ha paura. Aspetta. Argo, guarda, c'è la tua padrona. Hai paura? No, non devi avere paura dei leoni. Su, andiamo. Ora vedrai. Simba! Simba, vieni qui! Simba! Cos'è, non ti va di muoverti oggi? Guarda, questo è Argo. Però non si mangia, eh? Dovrà essere tuo amico. D'accordo? Così bravi. Proteggilo. Fanno già d'accordo. Diventeranno amici. E diventeremo amici anche noi, non è vero? Io voglio... Voglio che tu sia felice. Stanno bene insieme, eh? Chissà, è qui! Grazie a tutti.